almeno 2% al più 1% e riunirò il Consiglio dei Ministri. Ho perso e lo dico a voce alta, anche se con il nodo in gola, perché non siamo rubò. Io non sono riuscito a portarvi alla vittoria. Vi prego di credermi quando dico che comunque ho veramente fatto tutto quello che penso si potesse fare in questa fase. Grazie. 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 Grazie a tutti.